musica 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 ragazzi questo è il primo vlog siamo qui con Henry qui è la raga camera in ritardo? ragazzi questo primo vlog inizia alle 20.16 e la nostra esibizione alle 9 un saluto vabbiamo sgasata vabbiamo sgasata vai comunque stiamo andando a fare un'esibizione in un oratorio, una parrocchia questo video lo chiamerei dallo stadio alla parrocchia che mi sembra come no in ferrari se la polizia ti ferma e tu stai finger spinnando perchè lo chiamo così questo posto qua tu lo dici quasi c'è la strada notare che Gunter è un buon youtuber anche facendo una manovra non molla il sufficio spinner comunque ragazzi ci vediamo appena arriviamo siamo abbonati sotto da circa mezz'ora non riusciamo a trovare parcheggio e sembra di essere a manhattan ma ne ha detto la parcheggiamo dietro la macchina nel don ma già se si vici dai ma abbiamo anch'io un po' tra 5 minuti dovremmo iniziare una botte 1951 Gunter qualcosa da dire? raga ora mandiamo fuori dal campo Andrea il nostro allenatore grazie stiamo preparando ragazzi siamo quasi pronti Gunter è in regia dj Gunter ste pronti? SI Facciamo un applauso del gruppo Icelli, da Descia, fino a Buonati Sopra! Buonati Sopra! Ragazzi scusateci! Buonati a lì! No, Harry se lo ricordano lei! Buonato! Buonato! Riccardo, sai cosa dobbiamo fare? Una sfida di tunnel! Chi prende tunnel perde! Molto semplice! Ma Harry la butta subito incredibile! Buonato! 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 ci vediamo nel prossimo video